Più procedeva nella lettura, più si sentiva deluso. Gli capitava ciò che capitava sempre a chi si occupa di studi scientifici. Non per diventare uno scienziato o per scrivere, discutere e insegnare, ma soltanto per trovare la risposta a domande elementari, semplici, vitali. La scienza gli rispondeva su mille questioni diverse, diverse, molto sottili e profonde, legate al problema criminale, ma non a quello che gli importava. Egli domandava una cosa molto semplice, perché alcuni uomini si arrogano il diritto di imprigionare, torturare e deportare, fustigare e uccidere altri uomini, in tutto simili a loro. A queste domande i libri gli rispondevano, dissertando in vario modo, è libera o no la volontà dell'uomo? È possibile o no dichiarare delinquente un uomo dalla misura del suo cranio? Quale importanza ha l'ereditalietà nel delitto? Esiste una immoralità congenita? E il temperamento? Come agiscono sul delitto il clima, il vitto, l'ignoranza? L'esempio, la suggestione, le passioni? Che cos'è la società? Quali sono i suoi doveri? Eccetera, eccetera. Tali dissertazioni ricordavano Necliudov la risposta che egli aveva dato un giorno a un ragazzino di ritorno dalla scuola. Necliudov gli aveva domandato se sapeva sillabare. Se signore, aveva risposto il fanciullo, Beh, allora sillaba alla parola zampa. Che zampa? Quella del cane? Aveva detto il bambino con aria furba. Alla domanda di Necliudov gli scienziati rispondevano allo stesso modo con risposte che erano altrettante domande. Questi testi erano intelligenti, dotti, interessanti ma non rispondevano all'essenziale Che diritto ha l'uomo di punire i suoi simili? E oltre a non rispondere tutte quelle dissertazioni miravano soltanto a spiegare e a giustificare il castigo la necessità del quale era posta come un assioma. Necliudov leggeva molto ma senza continuità e credeva perciò che il fatto di non trovare una risposta dipendesse dalla lettura superficiale sperando di poterlo trovare in seguito non si permetteva ancora di credere che l'unica risposta giusta fosse quella che, negli ultimi tempi gli si presentava alla mente sempre più spesso. La ragione è questa io sono il colpevole ma la punizione è toccata a lei se è stata condannata vuol dire che non è innocente è perfettamente innocente e Cleodov con una citazione inutile raccontò tutta la storia ho capito si tratta di una omissione del presidente e i giurati hanno risposto senza riflettere in questi casi c'è la Cassazione la Cassazione ha respinto il ricorso? se l'ha respinto vuol dire che i motivi addotti erano insufficienti sentenziò Ignati Nikiforovic evidentemente dividendo l'opinione generale che la verità è il frutto della procedura orale durante l'udienza la Cassazione non può entrare nell'esame minuzioso delle cause se si tratta davvero di un errore giudiziario conviene inoltrare la domanda di grazia all'imperatore è stata inoltrata ma senza successo il ministero farà un'inchiesta si rivolgerà alla Cassazione e la Cassazione risponderà con un secondo rifiuto e come succede sempre l'innocente sarà condannato prima di tutto il ministero non si rivolgerà alla Cassazione disse Ignati Nikiforovic con un sorriso indulgente vorrà vedere il fascicolo della causa e se troverà un errore ne trarrà le sue conclusioni in secondo luogo gli innocenti non sono mai condannati o perlomeno lo sono assai raramente vengono condannati i colpevoli affermò Ignati Nikiforovic con calma sorridendo compiaciuto e io sono convinto del contrario ripetene Kludoff con un senso di ostilità verso il cognato mi sono reso conto che una buona metà degli individui condannati dai tribunali è innocente in che senso? nel senso più stretto della parola come è innocente questa donna dell'avellenamento come è innocente un contadino che ho conosciuto in questi giorni imputato di un assassino che non ha commesso come sono innocenti una madre e un figlio che se la sono cavata per un filo accusati di un incendio doloso appiccato dallo stesso padrone ma si capisce gli errori giudiziari ci sono sempre stati e sempre ci saranno le istituzioni umane non possono essere perfette se poi la schiera è innumerevole di quelli che sono innocenti per il semplice fatto che è cresciuto in un dato ambiente non considerano colpevoli le azioni che commettono scusate questo non è giusto ogni ladro sa che il furto è una colpa e che non bisogna rubare perché rubare è immorale disse Ignati Nikiforovic con quel sorriso lievemente ironico e con quella tranquilla sicurezza di sé che aveva il dono di esasperare Neklyudov no non lo sa gli dicono non rubare ma lui vede e sa che il principale gli ruba il lavoro trattenendogli la paga e che il governo con tutti i suoi funzionari gli ruba il denaro sotto forma di tasse ma questa è anarchia interruppe sempre calma Ignati Nikiforovic voleva precisare il senso delle parole del cognato sia quel che si voglia io dico le cose come sono proseguì Neklyudov il ladro sa che il governo lo deruba sa che noi grandi proprietari continuiamo da tempo a derubarlo della terra che dovrebbe essere un bene comune ma quando lui raccoglie da quella terra rubata qualche ramo secco per accendersi un po' di fuoco noi lo mettiamo in prigione e lo accusiamo di furto e gli sa benissimo che il ladro non è lui bensì chi gli ha sottratto la terra sa che il dovere gli impone di compiere una restituzione alla sua famiglia di quel che gli è stato tolto non capisco ma se anche capissi non condividerai le vostre opinioni la terra non può essere proprietà di qualcuno se voi spezzettate cominciò a dire Ignati Nikiforovic con la pacata e assoluta certezza che Neklyudov fosse un socialista e che secondo la dottrina socialista la terra dovesse essere divisa equamente fra tutti una dottrina stolta che gli avrebbe potuto assai facilmente confutare se voi oggi dividete la terra in parti uguali domani passerà nelle mani dei più laboriosi e intelligenti e chi dice di ripartire la terra in parti uguali? la terra non deve essere proprietà di nessuno né essere soggetto di compravendita o di affitto il diritto di proprietà è insito nella natura dell'uomo senza il diritto di proprietà non ci sarà più nemmeno l'interesse a lavorare la terra distruggete il diritto di proprietà e ritorneremo allo stato selvaggio sentenziò Ignati Nikiforovic ripetendo a favore del diritto di possedere la terra il solito argomento considerato incontrovertibile quello che vede nell'avidità del possesso la prova è che il diritto di proprietà non si può sopprimere al contrario la terra cesserà di essere inutile come lo è attualmente e i grandi proprietari non ringhieranno più come i cani sul fieno se qualcuno tenterà di toccare la terra che essi però non sanno sfruttare ascoltatemi Dimitri Ivanovich ma questa è una pazzia è mai possibile all'epoca nostra sopprimere il diritto di proprietà so che questo è un vostro vecchio dada ma permettetemi di dirvi francamente che Ignati Nikiforovic era impallidito e la voce gli tremava evidentemente quell'argomento lo toccava da vicino vi consiglierai di pensarci bene prima di prendere una decisione definitiva alludete le mie faccende personali? sì io ritengo che noi tutti che occupiamo una certa posizione dobbiamo accettare le responsabilità inerenti al nostro stato e favorire le condizioni dell'ambiente in cui siamo nati che abbiamo ereditato dai nostri avi e che tramanderemo ai nostri figli io penso sia mio dovere permettete proseguì Ignati Nikiforovic non lasciandosi interrompere non crediate che io parli per me o per i miei figli la posizione dei miei figli è assicurata io guadagno abbastanza per mettere a riparo la mia famiglia dai bisogni presenti e spero futuri la mia protesta contro il vostro modo d'agire permettetemi la parola un po' irriflessivo non è in difesa di interessi personali ma proviene dal fatto che non sono d'accordo con voi e vi consiglierai di pensarci di leggere più beh lasciate che sbrighi me e affari per conto mio e decida da solo quello che debba o non debba leggere esclamò Niklyudov impallidendo si sentiva le mani gelide e capiva che stava perdendo il controllo dei suoi nervi tacque e si mise a bere il tè in attimo Nikiforovic sentiva che Niklyudov lo disapprovava e disprezzava la sua attività e avrebbe voluto dimostrargli che quel giudizio era errato e Niklyudov da parte sua era seccato che il cognato si mischiasse nei fatti suoi ma che nell'intimo suo sentisse che il cognato la sorella e i loro figli in quanto eredi avevano il diritto di farlo ma era soprattutto irritato dalla presunzione e dalla calma con cui quell'individuo mediocre continuava a considerare giusti e legali certi principi che ora Niklyudov sembravano indiscutibilmente insensati e disonesti tanta presunzione lo indignava e il tribunale che cosa avrebbe fatto avrebbe condannato ai lavori forzati come assassino comune quello dei due che fosse sopravvissuto al duello Niklyudov sentì le sue mani farsi nuovamente di ghiaccio e replicò con furore e con che vantaggio sarebbe giusto come se la giustizia fosse l'obiettivo del tribunale disse Niklyudov e quale altro sarebbe il mantenimento degli interessi di classe il tribunale secondo il mio punto di vista non è che lo strumento amministrativo per la conservazione di un ordine di cose favorevoli alla nostra classe è un punto di vista assolutamente nuovo rispose Gnati Nikiforovic col suo sorriso imperturbabile di solito si attribuiscono al tribunale altri scopi teoricamente sì ma non in pratica come ho potuto constatare il tribunale ha per compito il mantenimento della società nel suo ordine attuale perciò si perseguita e si punisce tanto chi si mette al di sopra del livello comune per innalzarlo cioè i cosiddetti delinquenti politici come chi sta al di sotto cioè i cosiddetti criminali tipo non posso ammettere anzitutto che i delinquenti cosiddetti politici siano puniti perché sono al di sopra del livello comune per la maggior parte sono rifiuti della società altrettanto depravati anche se in un senso un po' diverso dei delinquenti tipo che voi mettete al di sotto del livello comune ma io conosco persone che sono senza confronto superiori ai loro giudici tutti i settari per esempio sono gente onesta integra ma Ignati Nikiforovic abituato a non lasciarsi interrompere non ascoltava Neklyudov e continuava a parlare contemporaneamente a lui irritandolo sempre di più non posso neppure ammettere che lo scopo del tribunale consista nel mantenimento del regime attuale il tribunale persegue i suoi scopi o la correzione bella correzione nelle prigioni esclamò Neklyudov o l'allontanamento incalzò Ignati Nikiforovic dei depravati e dei bruti che sono la continua minaccia per l'esistenza della società il guaglio è che il tribunale non fa né l'una né l'altra cosa la società non ha mezzi sufficienti per farlo come? non capisco domandò Ignati Nikiforovic con un sorriso forzato voglio dire che in fondo di punizioni ragionevoli ne esistono soltanto due quelle che si usavano nei tempi antichi la pena corporale e la pena capitale delle quali per effetto di una maggiore mitezza di costumi si va sempre più perdendo l'uso disse Nikiforov è la prima volta che dite una cosa simile e in bocca vostra suona strana sì è ragionevole infliggere un dolore fisico a una persona per impedirgli di commettere un atto che gli ricordi il dolore provato ed è perfettamente logico tagliare la testa a chi rappresenta un danno e un pericolo per la società ma queste due pene sono almeno sensate ma che senso ha il rinchiudere in una prigione un uomo già corrotto dalle ignavie e dal cattivo esempio costringendolo a un ozio assicurato e obbligatorio da condividere con i peggiori delinquenti oppure trasportarli chissà mai perché a spese dello Stato più di 500 rubli a testa dalla provincia di Tula a quella di Irkutsk o da quella di Kusk ma però la gente ha paura di questi viaggi a spese dello Stato e se non ci fossero questi viaggi e le prigioni noi non staremmo qui a sedere come facciamo le prigioni non possono garantire la sicurezza della società perché la gente non sta in prigione eternamente ma presto o tardi ne viene fuori anzi il sistema penitenziario vizia e corrompe al massimo grado e il pericolo aumenta volete dire che il sistema penitenziario deve essere perfezionato? è impossibile perfezionarlo costerebbe più di quello che si spende per l'istruzione pubblica e sarebbe il popolo a sopportare i maggiori oneri ma i difetti del sistema penitenziario non infirmano affatto il tribunale riprese Ignati Nikiforovic senza ascoltare il cognato questi difetti non si possono correggere rispose Nikliudo falsando la voce e allora che fare? dobbiamo uccidere? o forse cavare gli occhi come ha proposto un uomo di Stato? disse Ignati Nikiforovic con un sorriso di trionfo sarebbe crudele ma razionale quello che si fa adesso non è solo crudele ma irrazionale e stupido a tal segno che non si riesce a capire come persone moralmente sane possano far parte di un organismo così assurdo e crudele come il tribunale penale ma anch'io vi appartengo disse Ignati Nikiforovic impallidendo è affar vostro per conto mio non lo capisco mi sembra che siano molte le cose che non capite replicò Ignati Nikiforovic con voce tremante ho ben visto in tribunale e so anche come un altro procuratore ha condotto l'interrogatorio di un settario e applicato la legge penale alla lettura del Vangelo e poi tutta l'opera dei tribunali è fatta soltanto di azioni insensate e crudeli io non occuperai il posto che occupo se la pensassi come voi ribatte Ignati Nikiforovic e si alzò e Klyudov vide uno strano luccicore dietro le lenti del cognato possibile che pianga si domandò al principe erano proprio lacrime lacrime di umiliazione Ignati Nikiforovic si avvicinò alla finestra cavò di tasca il fazzoletto si raschiò la gola e asciugò le lenti poi se le tolse e si asciugò anche gli occhi infine sedete sul divano accese un sigaro non parlo più Nikiforov provò un senso di pena e di vergogna al pensiero di aver offeso così vivamente il cognato e la sorella tanto più che il giorno seguente sarebbe partito e non li avrebbe rivisti tanto presto si accomiatò tutto confuso e tornò a casa è molto probabile che avessi ragione io pensò se non altro lui non ha saputo che cosa replicare ma non dovevo parlargli in quel modo mi sono mutato ben poco se un sentimento malevolo ha ancora tanta presa su di me e se ho potuto umiliare tanto lui e causare tanta pena alla mia povera Natasha